Il comune di Roscigno punta all'amodernamento del campo sportivo Biagio Risi in località Mardo, realizzato negli anni 90 allo scopo di offrire ai residenti, soprattutto ai giovani, un luogo e un'occasione di aggregazione. L'intenzione dell'amministrazione comunale retta da Pino Palmieri è quella di una generale riqualificazione del campo sportivo che tuttavia si presenta già in discrete condizioni, ma che necessita di adeguamenti per rispettare le direttive del CONI per gli impianti sportivi. Attualmente il campo viene utilizzato per gli incontri della locale squadra di calcio che partecipa al campionato di terza categoria. Ora si profila un'opportunità di portare avanti il progetto in quanto è stato pubblicato l'elenco provvisorio dei progetti che saranno finanziati nell'ambito del progetto Sport e Periferie del CONI che prevede fondi per la realizzazione o il completamento di strutture sportive. 18 i progetti approvati in provincia di Salerno e tra quelli finanziabili c'è il progetto relativo al campo da calcio di Roscigno per il quale la Giunta nelle scorse settimane ha approvato un piano di fattibilità. Il progetto prevede una spesa di 168 mila euro. In particolare sono previste azioni per la realizzazione di una tribuna, la recinzione dell'area di gioco e la sistemazione dell'impianto di pubblica illuminazione.